La Stramilano è la competizione podistica per eccellenza della città ed è un'occasione per fare il tempo per chi si allena tutto l'anno ma è soprattutto l'occasione per stare insieme, per godersi l'aria fresca e soprattutto per provare varie distanze, quindi sia la family walking sia cose un po' più impegnative e nella speranza poi un giorno di fare i fatidici 21 km, la mezza maratona che è la classica Stramilano Tutto pronto per domenica per correre la Stramilano, il team Lombardia c'è ci sarà presente un grande numero di dipendenti, assessori, consiglieri regionali per correre la Stramilano Questa è la maglietta che abbiamo scelto in seguito a un contest, la Lombardia che corre